buongiorno in questa novena di natale il racconto di matteo evangelista capitolo 1 continua a cui versetti dal 18 al 24 il protagonista per matteo e giuseppe e lui che viene presentato nella sua capacità di accogliere gesù figlio di dio nonostante accada qualcosa di inverosimile ed gli sia chiamato ad accogliere questo inverosimile la promessa sposa maria rimane incinta per opera dello spirito santo ma giuseppe non capisce ed è soltanto l'angelo in sogno che lo aiuta a comprendere ad accettare questa enorme sfida quella di diventare il padre del figlio di dio padre per davvero però dio bisogno di giuseppe per inserire gesù dentro la discendenza dei figli di davide per inserirlo dentro una storia quella del popolo di israele che dio stesso ha preparato perché diventi la storia dell'umanità intera perché dal popolo di israele il più piccolo fra tutti i popoli deve venire il salvatore del mondo e giuseppe ne è l'anello necessario colui che dà il nome al figlio e in questo modo lo inserisce profondamente nelle dinamiche di un'umanità bisognosa di salvezza e di liberazione ma dio sceglie anche giuseppe per un motivo ben più profondo giuseppe è uomo giusto e questo significa che è uomo a favore della vita che sceglie sempre di difendere la vita quando viene a sapere che maria è incinta e gli pensa di essere stato tradito e quindi se la ripudia la mette nelle condizioni di essere lapidata per questo giuseppe sceglie di non farlo perché alla legge predilige piuttosto la via della vita di un amore di giustizia che difende la persona anche quando è incomprensibile e così giuseppe salva la vita di maria salva la vita di gesù il bambino ancora prima di sapere chi veramente sono la prediletta del padre e la madre del figlio di dio gesù nasce dentro la famiglia dove il padre è un uomo giusto colui che difende sempre e inequivocabilmente la vita per noi allora la preparazione a natale sull'esempio di giuseppe è una scelta quella di stare sempre dalla parte della vita in particolare del più debole del più indifeso dell'emarginato di coloro che nessuno difende scegliere la vita sempre quando inizia e anche quando finisce laddove a volte si è anche dentro una incomprensione laddove ci sono situazioni che sfuggono a nostro controllo con l'aiuto dello spirito santo con la comunione della chiesa ciascuno di noi vive bene il natale se sceglie inequivocabilmente la vita come giuseppe buona giornata